Si avvia a conclusione l'esperienza del mercato etnico nel sottopasso ferroviario di Pescara. Proprio oggi il dirigente competente ha firmato il provvedimento per la revoca dei posti assegnati. La struttura, motivo di numerose d'aspre polemiche, di fatto non è mai stata aperta, malgrado fosse stata inaugurata dagli amministratori di centro-sinistra. Desolante l'immagine che vediamo alle nostre spalle, una sola bancarella presente quest'oggi. E' un fallimento annunciato, noi come centro-destra l'abbiamo detto durante tanti mesi di attività, il centro-sinistra non ci ha ascoltato, la regione di allora non ci ha ascoltato perché ha contribuito con 50.000 euro e quello che noi avevamo detto che sarebbe stata una ghettizzazione per i senegalesi e per i loro colleghi, tanto è stato. Inizialmente le domande giunte a Palazzo di Città sono state 84, oltre 50, gli operatori ritenuti idonei, ma nei giorni subito dopo l'inaugurazione, nel sottopasso ferroviario, soltanto due o tre commercianti hanno provato ad allestire le loro bancherelle. Molti senegalesi hanno preferito spostare la loro attività sul lungomare, dove il via vai di turisti e di bagnanti è molto più numeroso. Certo, anche quella è una scelta che non può essere assolutamente condivisa, perché noi siamo per un commercio legale, un commercio fatto di persone che pagano enormemente le tasse, e non di persone che delinquono e che scelgono abusivamente di vendere merce spesso contraffatte, che peraltro va in concorrenza con chi invece lealmente fa questa attività. Non è nulla di pregiudizievole, non è nulla di differenziazione della pelle sociale, religiosa, ma è solamente buon senso e rispetto delle regole. Noi siamo per il rispetto delle regole, punto e basta. Sinistra italiana, come si ricorderà, si era fortemente battuta con il sindaco Alessandrini per ottenere l'apertura del mercato etnico. Per la sua realizzazione, lo ricordiamo, sono stati spesi 250 mila euro. Per il taglio del nastro erano intervenute a Pescara anche numerose autorità del Senegal. Sulla futura utilizzazione poi sarà il sindaco insieme alla giunta a deciderlo. Io invece auspico che la regione, dove io sono uno dei capigruppo, non disperderà più cifre importanti per opere inutili.